bella raga bentorni play in questo nuovo video oggi siamo in un nuovo video adrenalin finalmente qua da noi in sicilia è arrivato il bomber con ramirez limited edition e pandev e due pacchetti che ci regalano oltre la rivista numero 16 raga prima di iniziare volevo salutare a lorenzo matteo adriana martino antoz e andris ciao raga vi ho detto tutto possiamo iniziare ad aprire la rivista bomber questa qui è la rivista con ronaldo e buffoni in copertina serie a il campionato più bello del mondo c'è resetta la conquista dell'italia regione in golani allora raga ad ottobre uscire il numero 17 con castro e acerbi valutazioni 82 di difesa per castro 90 e 86 per acerbi 93 86 82 poi devo uscire a novembre samichedira 92 97 90 questa qui la rivista adesso del limite edition di questo mese sono pandev e ramirez pandev con 78 di difesa 83 e 86 di attacco ramirez invece a 78 92 e 86 quindi le limite edition le andiamo a mettere poi andiamo a mettere qua e ci apriamo due pacchetti così finiamo il video abbiamo due pacchetti uno con verdi e uno con gioco quindi e iniziamo da quello con zero o sto bigliettino c'è a giocare facile dell'atto qui prendi aspetto 4 le giriamo e abbiamo cansello giaccherini ser nicola vediamo su questo che cos'è pianicistella che non mi ricordo se ce l'abbiamo ma mi sa di no però comunque ci sta ci sta tantissimo e calabria del milan andiamo andiamo con l'altro pacchetto e questo qua è andato e benissimo l'altro pacchetto aperto o un altro di questi bigliettini ok abbiamo c'è pitelli ed era verdi benassi lui è albiol idolo 90 e gaiolo del parma quindi raga queste qui era la rivista bomber abbiamo trovato pianicistella e 2 limit edition ok quindi raga se vi è piaciuto iscrivetevi al canale lasciate un like condividete e noi ci vediamo a un prossimo video ciao 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 Grazie a tutti